Fa tappa anche a Caltanissetta la campagna nazionale di Lega Ambiente Salva l'Arte che prevede in tutta Italia degli appuntamenti con il patrimonio culturale e artistico. Si parla di bellezza, partecipazione e inclusione, un'iniziativa che va avanti da molti anni. 25 anni fa infatti la prima edizione nel nostro paese. I diversi circoli territoriali hanno organizzato vari appuntamenti tra il 28 e 30 ottobre, ma in molti casi, come a Caltanissetta, Salva l'Arte accoglierà i curiosi e gli appassionati della storia della città questa domenica 6 novembre, con un percorso alla scoperta di tracce testimonianti il passaggio di Caltanissetta da città feudale a città capovalle, che avvenne nel 1818. Salva l'Arte è una campagna nazionale di Lega Ambiente che serve a valorizzare i tanti beni culturali che abbiamo in questo paese. Devo dire che sono tanti anni che non lo facevamo a Caltanissetta, almeno 6-7 anni, quindi con piacere ritorniamo a fare Salva l'Arte. Quest'anno lo dedichiamo alle tante emergenze, tanti tesori che sono nascosti nel centro storico relative al periodo che interessò Caltanissetta quando prima era una città feudale e poi nel 1818 diventò invece capovalle, quindi una città capoluogo. Questo determinò tanti cambiamenti nella città, per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda l'illuminazione cittadina, per quanto riguarda il sistema della posta e tante testimonianze che le ritroveremo in tante nicchie nascoste e questo lo faremo grazie alla guida dell'architetto Giuseppe Saggio. Partiremo dalla Piazza delle Forche che si trova nella parte alta di Viale Regina Margherita dove inizia il corso Umberto, in questo slargo, questa è la vecchia piazza delle botteghelle, piazza delle Forche e poi andremo verso gli Angeli, risaliremo fino ad arrivare al quartiere bizantino e poi ritorneremo verso piazza Garibaldi.